Wiii brutto pezzo di camperista. Come stai? Oggi mercoledì giornata cartolinas e te lo dico in spagnolos. Infatti ti porti in Spagna in un bellissimo parco nazionale geologico Las Barrancas de Burujón. Burujón. Burujón così. Un luogo affascinante dove abbiamo porcheggiato per tre giorni. Il Liberissima. Tanto non c'era nessuno in mezzo a queste formazioni rocciose molto particolari. Se ti capita vai anche a avvistare la graziosa cittadina di Toledo. Molto bella. Vabbè guardiamoci questa cartolina. Grazie a tutti. 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 Abbiamo visitato quei luoghi fuori stagione tra ottobre e novembre. Devo dirti che anche se intero l'autunno siamo veramente stati bene e non ci sono mancati i bellissimi paesaggi. Non dimenticarti l'appuntamento di venerdì con il nostro video classico alle 13. Che se te lo dimentichi poi chiami Ergommista. Ci siamo capiti. Ciao bello. Ciao. 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 Ciao.